L'hanno fermato il giorno di ferragosto al termine di un rocambolesco inseguimento venuto davanti agli occhi increduri di numerosi villeggianti all'interno di un supermarket di Marina di Ragusa. Sottoposto dai carabinieri a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish già suddivisi in stecche. Per Fatilo Said, tunisino di 24 anni, sono scattate le manette ai polsi. Il giovane è stato condotto dapprima in caserma e al termine delle formalità di rito accompagnato presso la propria abitazione a Marina di Ragusa come disposto dall'autorità giudiziaria competente. Sotto il profilo della circolazione stradale sono stati insensificati servizi di prevenzione da parte dei militari dell'arma, controllati 92 automezzi, identificate 203 persone, elevate 28 contravvenzioni al codice della strada, decurtati 180 punti patente per infrazioni varie, ritirate due patenti di guida, sottoposte a sequestro tre autovetture e due ciclomotori. Inoltre sono state denunciate due persone per guida senza patente e una per guida in stato d'Ebrezza e segnalati tra i ragazzi quali assuntori di sostanza stupefacente alla prefettura di Ragusa. Grazie Grazie Grazie